Tragedia di Pasqua all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La procura ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia di una coppia originaria dell'agro per la morte della loro figlia. La bambina è nata senza vita nel weekend pasquale. Una gioia diventata, dolore incredibile e incolmabile. La signora, originaria di Nocera Inferiore, mentre il padre di Pagani si è recata in ospedale nella notte tra il 30 e il 31 marzo. Aveva dei dolori al basso ventre. Essendo incinta ha temuto il peggio per la bimba che portava in grembo. I medici l'hanno monitorata e poi sono intervenuti con un taglio cesareo d'urgenza. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. La piccola è nata morte. Il sospetto è che possa essere stata soffocata dal cordone ombelicale attorcigliato intorno al collo. La madre era stata in ospedale già alcuni giorni prima per effettuare dei controlli sullo stato della gravidanza. La signora non si era sentita bene ma i medici l'avevano rassicurata dopo aver effettuato alcuni esami. Poi è accaduto l'irreparabile. La famiglia ha presentato denuncia alle forze dell'ordine. Il sostituto procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, Ernesto Caggiano, ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Le indagini sono affidate alla polizia giudiziaria che ha sequestrato la cartella clinica in ospedale. Nelle prossime ore potrebbero scattare gli avvisi di garanzia. Domani invece dovrebbe essere conferito l'incarico al medico legale per l'autopsia. Il corpicino è ora nell'obitorio del presidio sanitario nocerino. La morte della piccola ha gettato nello sconforto due famiglie che si preparavano ad accogliere la neonata con tutto l'amore e la gioia che le nascite portano con sé.